Salute viandanti del mondo Wi-Fi, io sono Alessandro di NewAudio e se siete alla ricerca di fantastici prodotti high-end, siete nel luogo esatto, sedetevi e mettetevi comodi. In questo video vi parlerò del Nagaoka MP500, il modello di punta delle testine per giradischi della serie Nagaoka MP. Ma prima di cominciare vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi per supportare il canale, detto ciò possiamo incominciare. La testina Nagaoka MP500 offre la massima espressione musicale e creativa della nuova serie MP. estraendo e riproducendo sapientemente con vivida, colorata e dimensionale chiarezza ciò che ami più ascoltare. Grazie a più di 80 anni di esperienza nel settore, l'azienda nipponica è riuscita a combinare l'esperienza con la tecnologia più moderna, realizzando una testina top di gamma. Il corpo è dotato di un patente magneto al colbato di Samario. Un guscio in plastica rinforzata con della fibra in carbonio e un involucro permalide shield antipagnetico. Il canting lever è in boro, un materiale più costoso perché a differenza di quelli in alluminio il boro offre una bassa massa ad alta resistenza. Infine, lo stilo diamantato a contatto della linea superfine. Tutte queste caratteristiche permettono di ottenere una risonanza e una fedeltà molto maggiore, e grazie al suo design old school, il suo corpo squadrato rende l'allineamento del braccio più semplice. Inoltre, la finitura placata in oro lucido fa un'ottima impressione, rendendo il prodotto un dispositivo ancora più pregiato. Questa testina è uno di quei prodotti che non ti può deludere. Il suono, come ho già citato nell'introduzione, è superbo. Naturalmente, per poter sentire ogni singolo dettaglio che questa testina può offrirti, è necessario un impianto Wi-Fi al suo livello. Ma non preoccuparti, la serie MP ha una linea di testine per i sistemi più economici ai più professionali. Sul nostro canale YouTube trovi tanti altri video sui prodotti Nagaoka. Per maggiori informazioni puoi contattarci o visitare il nostro sito newaudio.it. E con questo è tutto, se il video ti è piaciuto lascia un mi piace e iscriviti per supportare il canale. Al prossimo video!